quello che stavo dicendo è che appunto un mio allievo ha problemi a capire gli schemi che gli ho mandato sulla struttura della bocca io in genere dopo aver dato delle indicazioni generali sulla struttura faccio fare una serie di esercizi elemento per elemento quindi per capirci gli occhi il naso la bocca le orecchie eccetera e poi rintegriamo tutto sul modello costruttivo della della testa chi disegna deve sapere come disegnare una testa a memoria e quindi gli serve di conoscere la struttura in generale e poi anche quindi lavorando dal vero fondamentalmente abbiamo la bocca io adesso faccio ma molto rapidamente uno schema di testa di secondo ray lee perché per la bocca è piuttosto utile lo schema di ray lee se è di scorcio è in questa maniera c'ha la fronte un punto dove girano gli occhi qui c'è la parte inferiore la fronte qui qui sopra c'è una separazione di questo tipo la metà della testa gira in questo modo qui c'è il collegamento fra allarcata sopraccigliare il qui c'è il mento qui c'è il naso c'è un occhio qui c'è l'altro occhio qui c'è lo zigomo lo zigomo mi viene fuori da questo collegamento questo mi dà l'indirizzo dove sta l'orecchio e qui c'è la bocca la bocca è di scorcio ed è su una coppa ok ma io purtroppo c'ho i baffi molto chiaro allora quindi facciamo sta coppa chiaramente qua sopra ci sarà il naso ma adesso noi non ce ne non ce ne non ce ne impicciamo del naso di queste cose qui se qui c'è la linea di metà del volto e qui c'è il mento se qui c'è la linea di metà del del volto e quindi quando disegnate lo scorcio dovete tenere presente che qui c'è questa coppa che s'allarga perché qui ci sono dei muscoli comunque se questo se questa è la metà del mento del volto questa linea l'asse di l'asse di simmetria del volto quello che passa qui in mezzo che passa per il naso passa per la bocca e questa è una coppa non va dritta giù ma segue l'andamento della coppa ci siamo ok e poi ci sarà la bocca ok quindi la bocca proprio anche solo se io la disegno facciamo finta che la disegno come non va disegnata cioè la disegnarsi così no con le labbra in questa maniera questa linea qui sarebbe qui da qui da qui e a qui ed è evidente che questo questa parte che è la metà della bocca questa metà si vede più corta di questa qui perché è di scorcio quindi anche se io disegnarsi la bocca come non va disegnata ovvero in questa maniera ci avrei un pezzo di bocca più corto e un pezzo di bocca più lungo ci siamo? questa cosa mi evita un errore fondamentale quando disegno dal vero dice presto ecc ec 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 Hy